Avrebbe annodato un lenzuolo nell'inferiata della cella per suicidarsi. L'episodio è venuto la notte scorsa intorno alle 2 nel carcere Castronio di Teramo dove si trovava recluso Giovanni Grieco, 41 anni, pescarese, detenuto dallo scorso 6 maggio perché ritenuto l'omicida di Gian Domenico Orlando, il pasticcere 67enne, ucciso a coltellate davanti al suo negozio di Pescara in via Puccini. L'intervento degli agenti penitenziari è risultato vano. Da quanto si è appreso, l'uomo avrebbe lasciato una lettera per la madre con la quale viveva nello stabile che ospita la stessa pasticceria. Le liti con l'artigiano erano diventate sempre più frequenti poiché Grieco si lamentava spesso dei rumori provenienti dall'attività commerciale che sia per lui che per la madre sarebbero diventati insopportabili. Il 41enne, che aveva agito sotto gli occhi del figlio del pasticcere che non poteva fare nulla, era stato rintracciato e arrestato circa 8 ore dopo a Pineto. Ad occuparsi del caso il sostituto procuratore della Repubblica di Teramo, Bruno Auriemma, che quasi certamente disporrà l'autopsia.